Ho il piacere di presentarvi il professor Pepino Ortoleva, studioso di storia e teoria dei mezzi di comunicazione e già professore ordinario all'Università di Torino, ha pubblicato un numero considerevole di saggi e lavori scientifici sul tema dei media e della, come piace definire lui, Antropologia dell'umanità contemporanea. Il suo prossimo lavoro, Miti a bassa intensità, uscirà tra febbraio e marzo per Inaudi nelle librerie e parlerà proprio del mito nella società contemporanea e dei miti della società contemporanea, poi ci spiegherà che cosa intende, sono da fenomeni come anche la criminologia che producono miti che sono un punto di riferimento per la società e producono identificazione e anche in certi casi sentimenti di repulsione e paura. Io personalmente mi presento, mi chiamo Graziano Cettara, sono un giornalista del secolo XIX, sono vice capo cronista qui a Genova, mi sono sempre occupato di cronaca cittadina, in particolare di cronaca nera e cronaca giudiziaria, negli ultimi vent'anni, buon peso, mi sono occupato di molti dei principali fatti di sangue, fatti di cronaca nera e poi di scandali e casi giudiziari, sostanzialmente dal G8 ai giorni nostri. Il 14 di agosto mi sono trovato alla guida della cronaca di Genova nel giorno del crollo di Ponte Morandi e ho guidato una squadra di giornalisti straordinaria, sono orgoglioso di lavorare con loro e molti di questi giornalisti sono dietro anche all'organizzazione di questo straordinario festival della criminologia e dobbiamo dire grazie anche a loro se siamo qui a discutere di questi temi. Venendo al tema di oggi, la mitologia del crimine, con il professore, il professore ci guiderà attraverso il fenomeno della fascinazione che i fatti criminali e i personaggi che sono dietro i fatti criminali producono nei lettori. Quindi ci racconterà questo fenomeno nella società contemporanea e poi con il contributo delle vostre domande e con le mie vedremo come si è evoluto negli ultimi anni il racconto dei fatti criminali e anche quali sono le richieste, come sono cambiate le richieste da parte del pubblico dei lettori rispetto alla narrazione dei fatti criminali, dei fatti di devianza. Cedo la parola al professor Toleva. Grazie. Si sente? Sì. Grazie infinite. Io sono sempre molto contento di venire in questo palazzo e ringrazio moltissimo gli organizzatori del festival del secolo XIX che è anche un quotidiano a cui ho l'onore di collaborare abbastanza spesso. Dunque il mio tema oggi, lo dice il titolo Mitologia del crimine, è perché i racconti che parlano di crimini e di criminali esercitano questo fascino che tra l'altro è antichissimo perché i primi organi di stampa che hanno notizie eccetera già fine 700 inizio 800 hanno la cosiddetta cronaca nera, quindi la cronaca che è relativa a fatti di sangue, hanno nella cronaca nera uno dei loro centri e come diceva uno degli inventori del giornalismo moderno, William Randolph Hearst, che poi qualcuno di voi ricorderà come il personaggio a cui è ispirato il film Quarto Potere di Orson Welles. Quello che i lettori vogliono è crimini e biancheria femminile, crime and underwear, in termini più italiani sesso e sangue. Allora la domanda che ci faremo è perché questa richiesta che tutti in qualche modo comprendiamo istintivamente, perché questa richiesta di fatti di sangue come elemento di attrazione, di curiosità, di interrogativi e perché anche questa richiesta non sia da liquidare come voi eristica, morbosa o cose del genere, ma possa avere delle spiegazioni un pochino più profonde di così. Introdurrò velezionamente un concetto di fondo. Esistono dei miti contemporanei? O viviamo in una società che si è liberata del mito? In fondo viviamo in una cultura nella quale in tutte le principali lingue occidentali la parola mito ormai è associata alla falsità, alla bugia, eccetera, eccetera. È un mito vuol dire sostanzialmente è qualcosa di falso. È anche vero che poi i ragazzini a volte dicono sei un mito per dire qualcosa invece di esaltante, però è un mito vuol dire qualcosa di falso. Ed è vero che molti, anche dei teorici contemporanei, sostengono che noi viviamo in una società senza miti perché la scienza avrebbe preso il posto nello spiegare il mondo del mito perché dovremmo avere bisogno di questi strani racconti mitologici quando abbiamo la scienza che va sempre più avanti e spiega tutto. Dall'altra parte alcuni invece dicono che noi non viviamo in una società senza miti perché viviamo in una società sostanzialmente banale, resa banale dalla tecnica e quindi non abbiamo più miti. In realtà io credo che non sia vero e cercherò prima di tutto di dare una definizione della parola mito che ci aiuterà a capire quello che dirò in seguito a proposito del crimine e del criminale. Il mito nella mia definizione è un racconto prima di tutto, i miti sono sempre racconti e infatti la cronaca ci racconta continuamente delle cose, un mito è un racconto nella mia definizione che fa da ponte tra l'esperienza che noi effettivamente viviamo e possiamo verificare e i grandi enigmi ai quali l'umanità non sa rispondere. Dal mito greco fino, come vedremo, ai miti contemporanei il mito è sempre un racconto che ci collega con alcuni grandi temi irrisolti. I grandi temi irrisolti possono essere la morte e quello che c'è dopo la morte, che come vedremo è qualcosa che ha molto a che fare con i miti della cronaca nera, così come se esistano o non esistano specie diverse dalla nostra ma che agiscono come noi, così come l'esistenza di creature superiori di tipo divino, sacrale e così via. così come anche il fatto che cosa ci sia nell'universo al di là dell'atmosfera. Certo, noi sappiamo oggi molto di più di quell'universo grazie alle sonde spaziali, ai grandi telescopi, eccetera, eccetera, ma tutti i giorni moltissime persone leggono sui giornali le rubriche di astrologia le quali ci parlano comunque degli astri in un modo che non è affatto scientifico e che è appunto mitologico. Cioè la rubrica di astrologia ci racconta le cose possibili della nostra vita con la mediazione degli astri di cui pure l'astronomia ci dice cose totalmente diverse, ma le due cose non si escludono e non si elidono a vicenda. L'esistenza di miti contemporanei del resto non la sostengo solo io, c'è una frase che mi piacerebbe ritrovare e che io trovo bellissima di uno degli autori che in generale ci aiuteranno a capire quello di cui stiamo parlando che diceva che i miti moderni sono ancora meno compresi dei miti antichi, benché anche noi siamo divorati dai miti, i miti ci incalzano da ogni parte, servono a tutto, spiegano tutto. Uno dei libri di saggistica più perennemente ristampati della nostra cultura, sempre dell'editore Einaudi, si chiama Miti d'oggi, è del semiologo Roland Barthes e continua a essere letto perché legge una serie di fenomeni del mondo moderno in termini di mitologia. Quindi io vi proporrò di interpretare quei particolari miti moderni, i miti moderni hanno delle peculiarità su cui non mi soffermerò se non sul fatto che hanno come protagonisti non degli esseri diversi dagli umani come gli dèi, le ninfe, eccetera, ma hanno come protagonisti gli esseri umani e sono collocati generalmente nel nostro mondo. Uno dei temi cruciali dei miti moderni che attraversa sia quella forma di racconto che è la fiction, che sia romanzo, che sia cinema, che sia televisione, fumetto naturalmente, sia la cronaca giornalistica che è fatta anche quella di racconti, sia pure che racconti che si impegnano a essere veri, poi che lo siano davvero è sempre discutibile. Tra i miti cruciali del nostro tempo ci sono quelli che riguardano il delitto e il criminale. Noi facciamo un consumo, dicevo, gigantesco di delitti, lo dicevo all'inizio, e questo consumo continua a rinnovarsi ogni giorno. Il genere più popolare della cultura di massa dalla fine dell'Ottocento in poi, anche se le origini sono un po' prima, è il poliziesco. E il poliziesco ha sempre al centro un omicidio. Teoricamente un poliziesco potrebbe anche parlare di furti, per esempio di rapimenti e così via, ma tutti gli studi ci dicono che il poliziesco ha al centro un omicidio. Allora il poliziesco non si occupa semplicemente di risolvere un enigma, ma deve risolvere un enigma che ha a che fare con la morte. E questo è un esempio, ma naturalmente di generi che ci parlano di criminali e di crimini e di criminali ce ne sono anche altri. Pensiamo al successo attraverso tutto il ventesimo secolo di storie che riguardano i grandi delinquenti, dai film di gangster americani degli anni 30, che hanno dato luogo ad alcuni dei grandi capolavori della storia del cinema, alle storie di mafia degli anni 70-80, il padrino e dintorni, fino a serie come Narcos che impazzano sulle reti televisive di tutto il mondo. Il criminale come una figura di per sé carica di fascino comunque, diceva uno scrittore americano che tra i primi si è occupati del tema, il gangster è quello che tutti vorremmo essere e che tutti abbiamo paura di diventare. Il criminale è una figura che ci repelle, che ci spaventa e contemporaneamente con cui è facile, almeno in certi momenti, identificarsi perché incarna, come vedremo, alcuni desideri profondi. Allora, la prima cosa su cui vorrei ragionare con voi è perché il crimine e il criminale, nell'universo mitico contemporaneo, nella definizione di mitico che ho dato prima, siano così cruciali. Vi darò due o tre risposte a questa domanda. La prima risposta a questa domanda è che tutti gli universi mitici, tutti gli universi mitici esistenti, hanno sia un mondo, diciamo, ideale, superiore, di alto valore, che può essere il mondo degli dèi, nei miti classici, nei miti moderni, può essere il mondo dei supereroi, per esempio, per quanto riguarda racconti che si rivolgono di più a bambini, può essere il mondo degli eroi sportivi o dei divi cinematografici, per certi versi, anche se il rapporto che abbiamo con i divi cinematografici è spesso complicato. Però hanno anche spesso delle figure, diciamo pure infernali, delle figure infere, delle figure delle divinità cupe, malvagie e così via. I miti greci avevano l'Olimpo, ma avevano anche l'Ade, cioè l'Inferno sostanzialmente, c'era accanto al dio Giove, il dio Plutone, o Ade in greco, che era il dominatore dell'Olimpo. In realtà, le figure dei gangster spesso hanno, nel sistema mitologico moderno, una funzione analoga, quella appunto di essere figure inferiore, figure infernali. Balzac, descrivendo uno dei primi grandi criminali della letteratura moderna, che era un personaggio che aveva vari nomi, comunque si chiamava spesso Vautrin, lo descrive appunto come una figura che somigliava all'angelo Lucifero, il portatore del male, salvo che piccolo particolare, che a differenza di Lucifero, non era immortale, perché tutte queste figure sono anche mortali, e uno degli elementi di fascino, per esempio, dei film di gangster, è vederli morire alla fine, condannati dalla loro stessa ambizione. Sono figure cupe, infernali, ma che sono parte essenziale di un mondo di storie, che devono rispondere ai grandi enigmi dell'universo. Sono portatori di morte e non di vita. Sono, diceva questo autore che citavo prima, Robert Worshaw, sono l'altra faccia, lui lo diceva parlando della cultura americana del dopoguerra, ma lo possiamo dire in fondo ancora adesso, sono l'altra faccia del lieto fine. La cultura di massa è dominata da storie, tutto sommato, che hanno caratteristiche spesso ottimistiche, mentre le figure dei criminali, in molti casi, sono appunto l'altra faccia, sono quelli che ci parlano di un mondo tutt'altro che a lieto fine. Raymond Chandler, che è uno dei grandi giallisti della storia, l'autore dei gialli di Philip Marrow, che però è un grande successo negli anni 30, ma poi sono stati riraccontati dal cinema parecchie volte, anche ripresi dalla televisione, a un certo punto diceva dei suoi polizieschi, noi parliamo di un mondo dove i gangster possono dominare le nazioni e poco manca non governino le città, di un mondo in cui gli hotel, le case albergo, i ristoranti famosi appartengono a individui che hanno fatto la fortuna con la gestione di bordelli, non è un mondo profumato, ma il mondo nel quale ci troviamo realmente a vivere. In una cultura di massa dove troppo spesso si raccontano mondi un po' edulcorati, le storie di criminali, di delinquenti, eccetera, sono l'altra faccia di tutto questo. E sono storie che vengono da sotto, dal basso, uno dei termini chiave per indicare il crimine è Underworld in inglese, il sottomondo, i bassi fondi, dove nell'Underworld c'è la parte più, come dire, oscura i quartieri, i quartieri più bui delle città, eccetera, eccetera, ma Underworld indica appunto il rovescio della città nella quale amiamo vivere, un rovescio che noi sappiamo che comunque esiste in tutte le città e di cui tutte le città non possono fare a meno. Quindi i gangster, per riprendere la mia metafora del mito, sono le divinità infernali di questa mitologia contemporanea. Poi c'è un'altra spiegazione per questa fascinazione del gangster e vorrei citare un testo che io amo molto, di uno scrittore che amo molto, parliamo di uno scrittore che spesso è considerato uno scrittore per bambini, ma non lo è affatto, che si chiamava Stevenson e che del resto ci ha dato con la storia del dottor Jekyll e di Mr. Hyde che in fondo ha molto a che fare con quello di cui stiamo parlando, uno dei racconti morali chiave del nostro tempo. Allora Stevenson in un piccolo raccontino fa confrontare due personaggi del suo romanzo più famoso, il suo romanzo più famoso è L'isola del tesoro che è tutt'altro che un romanzo per bambini e ci sono questi due personaggi che si confrontano il buono e il cattivo della storia, il capitano Smollett e il pirata Long John Silver e il capitano Smollett a un certo punto dice se non ci fossero i buoni dove potrebbero finire le storie e il pirata Long John Silver dice visto che parliamo di questo, se non ci fossero i cattivi potrebbero mai cominciare le storie, cioè sostanzialmente spesso il crimine, anche nel nostro desiderio di vederlo punito, eccetera, eccetera, è un punto di partenza essenziale. delle narrazioni della nostra cultura. La nostra cultura è fatta, non può essere fatta, lo diceva già qualcuno, solo di famiglie felici e deve essere fatta anche di sofferenze, anche a limite per il piacere di risolverle, di vederle finire. Il delitto è la matrice tipica di queste sofferenze che vogliamo vedere cominciare, ma alla fine chiudersi. Da questo punto di vista la cronaca nera è fatta di delitti anche perché è fatta di enigmi che iniziano il piacere di seguire una storia. Poi c'è l'allenamento più fondamentale di tutti, l'omicidio e il tabù supremo della nostra cultura. Non è vero che la morte sia un tabù, ma non entrerò in questo particolare, ma sicuramente l'omicidio lo è, tranne che in guerra. E infatti in guerra l'omicidio perde tutto il suo fascino perché diventa brutale banalità quotidiana. Ma l'omicidio è il crimine supremo, è il tabù supremo della nostra cultura e assume quindi, in quanto violazione di un tabù supremo, un'aura anche in qualche misura sacrale. In qualche misura il mistero legato all'omicidio non è semplicemente un enigma come può essere un enigma da settimana enigmistica, ma è un enigma carico, ripeto, di sacro. E devo dire, questo elemento sacrale è molto interessante. Se noi guardiamo per esempio la cronaca nera, noi notiamo che le storie di cronaca nera che più ci appassionano, più ci affascinano, spesso sono quelle dove più violento è l'elemento sacrale. Faccio un esempio banale, la madre che uccide il figlio, il figlio che uccide i genitori, gli amanti diabolici che uccidono il marito di lei. Sono temi che troviamo tutti nella tragedia greca e nella mitologia classica e che ritroviamo al centro della mitologia contemporanea del delitto. Bruno Vespa ci può campare per alcuni mesi intervistando la signora Franzoni tutti i giorni perché sa che noi siamo interessati alla criminologia e quindi a tutti gli strumenti tecnici per scoprire chi è stato, eccetera, eccetera, ma siamo interessati soprattutto a questa figura di questa madre mostruosa e in quanto mostruosa superiore anche in senso negativo ma superiore alla normalità quotidiana. Il delitto rompe la banalità perché infrange i tabù e più tabù infrange più introduce oltre alla morte violenta anche altri elementi come quelli che citavo prima la madre che uccide il figlio, eccetera, eccetera più fa presa su di noi. Vedete l'elemento mitico ci conduce verso qualcosa di misterioso. Ecco, a questo punto io vorrei molto rapidamente e così poi finisco e possiamo cominciare a conversare vorrei citarvi alcuni dei modi alcune delle forme che ha preso il mito del crimine nella nostra cultura di massa che sia nella fiction o che sia nella cronaca. Una assolutamente cruciale ne accennavo prima ne parlavo in un articolo che è uscito qualche giorno fa sul secolo, eccetera è appunto il poliziesco dicevo prima il poliziesco ha bisogno di un delitto o di una serie di delitti non gli basta un enigma sia pure criminale ha bisogno di morti di cadaveri, eccetera sicuramente il successo di questo genere è impressionante. Ora il genere poliziesco è cambiato molto nel corso del tempo noi lo sappiamo ci sono stati periodi in cui il genere poliziesco era esclusivamente un investigatore che con la potenza della sua logica e delle sue competenze scientifiche che si chiamasse Sherlock Holmes o Hercule Poirot eccetera eccetera o magari un investigatore che con la potenza della sua logica ma anche con la sua conoscenza del cuore umano che si chiamasse che si chiamasse Jules Maigret per esempio trovava i responsabili di un delitto poi ci sono stati molti altri molte altre forme polizieschi dove il poliziotto invece più una persona che agisce che entra dentro lo scontro col criminale e così via ultimamente questa componente qua è cresciuta moltissimo con la figura del detective che combatte il serial killer ci tornerò tra un attimo però sostanzialmente il chi è stato rimane un elemento cruciale e in ogni caso il poliziesco classico dove il chi è stato è al centro di tutto rimane il genere più amato Agatha Christie continua ad essere ristampata praticamente all'infinito la sua trappola per topi continua a essere recitati sui palcoscenici londinesi e non solo ogni romanzo di Megre rende alla casa editrice Adelfi almeno 30.000 copie e permette alla casa editrice Adelfi di pubblicare una serie di libri che non legge nessuno per fortuna perché i pochissimi che li leggono devono essere grati a Megre ma perché io molto scherzosamente ma molto seriamente direi che il poliziesco soprattutto questo tipo di poliziesco sostituisce al mistero della morte con la M maiuscola che è irrisolvibile per definizione salvo per atto di fede ma sicuramente non per esperienza al mistero della morte con la M maiuscola sostituisce il mistero del chiestato con la M minuscola gli antichi egizi definivano la morte il più sacro dei misteri del mondo ecco il più sacro dei misteri del mondo rimane tale ma almeno un mistero più piccolo siamo contenti di poterlo risolvere almeno sappiamo non che cos'è la morte la signora con la falce ma chi è l'assassino il signore con la pistola la 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 soluzione del delitto ha la funzione di rassicurarci contemporaneamente non è mai soddisfacente e questo è il motivo per cui come notava un critico letterario che odiava i gialli finito un poliziesco ne leggiamo subito un altro perché non questa questa soluzione del mistero non è mai definitiva perché ogni volta maigret risolve un mistero e sa che ce ne saranno tanti altri che lo aspettano Sherlock Holmes torna a casa con Watson e poi aspetta che arrivi qualcun altro a porgli degli altri interrogativi quando Conan Doyle si stufa di Sherlock Holmes e e decide di ammazzarlo di farlo uccidere dal cattivo per definizione Moriarty riceve talmente tante lettere che deve farlo ricomparire in vita tra l'altro con un espediente abbastanza strampalato perché la gente vuole ancora Sherlock Holmes e vuole ancora Sherlock Holmes perché vuole ancora misteri e risoluzioni di misteri e questa è una delle forme della 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 del che il delitto prende nella nostra cultura appunto la forma del poliziesco la forma del poliziesco poi ci sono altre forme e ci sono altri motivi della potenza del crimine nella nostra cultura un esempio che vorrei farvi in generale in generale devo dire è una cattiveria ma è una cattiveria seria noi non abbiamo più i gladiatori dell'antica Roma e ci sembrerebbe mostruoso stare lì in un'arena a vedere due persone che si ammazzano a fare il tifo per uno dei due che ammazza l'altro a parte che succede ancora ma comunque magari più di nascosto più clandestinamente però in fondo la cronaca nera giornalistica o televisiva è una forma leggermente meno aggressiva degli antichi ludi gladiatori noi comunque stiamo a vedere persone che si ammazzano invece di vederle nell'arena che si ammazzano davanti a noi leggiamo le loro storie con grande interesse grande curiosità ci sono giornali che parlano solo di quello c'è gente che compra solo quei giornali perché vogliamo vedere la gente che si ammazza solo che li vogliamo vedere un pochino a distanza uno dei generi dominanti di questi ludi gladiatori è la cronaca giudiziaria la cronaca giudiziaria se ci pensate è una è una forma di cronaca particolarmente interessante perché in una società che ha pochissimi riti un processo penale è un grande rito con pensate pensate ai telefilm americani la giuria ha raggiunto un verdetto sì qual è il verdetto colpevole non colpevole eccetera eccetera ma anche nel diritto italiano che ha le forme un pochino più lente della tradizione della tradizione romana però tutto sommato c'è un livello di ritualità molto elevato la cronaca giudiziaria ci dà tutto questo rito e ci mette davanti a una persona che sta per andare incontro al suo destino la tragedia diceva Aristotele è assistere alla persona che va incontro al suo destino il momento del processo penale è esattamente quello la persona che va avanti al suo destino viene assolto viene condannato i fotografi si scatenano a fotografare la faccia dell'imputato nel momento esatto in cui gli viene comunicato il suo destino perché noi il nostro destino non lo conosciamo ma quando ti viene detto che passerai 30 anni in galera è la cosa più simile al fatto degli antichi che possiamo immaginare e poi così mi arrivo verso la conclusione c'è una c'è una un genere un pochino più recente che è esploso nella nuova figura mitica della mitologia del crimine che è il serial killer il serial killer per quelli veri a parte che ce ne sono molti di meno di quanto uno immaginerebbe leggendo i gialli sono un numero abbastanza limitato certo qui a Genova ne avete avuto degli esempi ma in ogni caso non ce ne sono molti diceva qualcuno uno che va al cinema pensa che andando in una città americana incontra un gangster in angolo di strada uno che legge i gialli pensa che incontra un serial killer a ogni angolo di strada il numero dei veri serial killer è relativamente limitato statisticamente a Genova abbiamo avuto una ecco voi a Genova ecco perché perché questo sia un caso così tipicamente genovese non glielo so dire però sicuramente sicuramente se ne contano di veri serial killer nel corso degli ultimi trent'anni alcune decine nel mondo non alcune migliaia dopodiché la figura del serial killer quello reale è molto spesso è molto spesso una 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 psicopatico grave è spesso addirittura anche un po' deficiente cioè molto spesso sono delle persone con con un livello mentale tutt'altro che significativo il serial killer invece della mitologia è una figura opposta è quasi un sacerdote di un tabù ancora più estremo che il sacrificio umano è un uomo di estrema intelligenza di estrema capacità che incorpora in qualche modo il male con la M maiuscola una figura quasi metafisica nella sua nella sua cattiveria e a quel punto chi è il nemico del serial killer il cacciatore del serial killer che può ricorrere a tre possibili strumenti uno è la scienza e allora la profilazione stile FBI eccetera eccetera uno è il suo personale coraggio allora è una specie di eroe che lo insegue e il terzo è che è un serial killer lui stesso come Hannibal Cannibal Dexter eccetera eccetera che è il nemico dei serial killer quindi abbiamo questa nuova declinazione del mito del criminale che è particolarmente significativa per il nostro tempo perché lo sia varrebbe la pena di discuterlo più a fondo a questo punto direi che ci possiamo fermare benissimo è stato grazie abbiamo visto che connaturato al concetto di mitologia del crimine c'è il racconto inevitabilmente la riflessione che chiederei al professore prima di lasciare la parola poi alle eventuali domande del pubblico è come il racconto in questi anni il racconto del crimine si è evoluto è cambiato vorrei porre l'accento su due fenomeni perché il discorso naturalmente è molto ampio e complesso il fenomeno della confusione di ruoli vale a dire il giornalista il poliziotto il magistrato che dalla realtà passa alla finzione che diventa romanziere e traendo spunto dalla sua esperienza sente il bisogno di raccontare fatti inventati e questa è una cosa che accomuna come vediamo tra gli autori che impazzano in libreria comuna ai giornalisti ma anche i poliziotti anche i magistrati l'altro fenomeno che vorrei su cui vorrei porre l'accento e chiederei una riflessione al professor Ortoleva è il fenomeno della spettacolarizzazione dei processi anche qui parliamo di confusione di ruoli vale a dire il racconto del fatto criminale e dell'inchiesta giudiziaria che da esso origina e poi il processo dalle aule di giustizia si sono in questi ultimi anni poi magari ci dirà lei quando ha avuto origine tutto questo dalle aule di giustizia si sono trasferiti più che sui giornali dove il lavoro è ancora si svolge in modo più classico e oserei dire deontologico ma questo è un giudizio di valore si trasferiscono negli studi televisivi e allora abbiamo il caso di Cogne forse è stato il delitto di Cogne forse è stato il culmine di questo fenomeno abbiamo gli operatori della giustizia e gli operatori dell'informazione e tutto il circo che gira attorno a queste figure si trasferiscono negli studi e trovano il colpevole trovano il movente fingono immaginano si illudono di trovare il colpevole e il movente davanti al grande pubblico davanti a una telecamera con un modellino davanti senza fare riferimenti specifici sulla trasmissione ma faccio riferimento per esempio a porta a porta con invitati che diventano prima opinionisti e poi si trasformano in parti in causa nel processo reale diventano sfruttando la platea diventano consulenti delle famiglie delle vittime o dei carnefici e in una confusione di ruoli dove non si sa più dove la consulenza venga discussa e dove debba essere fatta valere se davanti al grande pubblico o se davanti come si dovrebbe come vuole l'ordinamento davanti al giudice ecco una riflessione su questi due aspetti io rispondo a queste due domande poi poi lascerei un po' di domande al pubblico così poi rispondiamo anche anche alle altre allora per quanto riguarda la confusione dei ruoli il discorso è complesso perché ci sono allora c'è una tendenza una tendenza abbastanza caratteristica della cultura degli ultimi 30 anni a quello che si potrebbe chiamare da una parte se parliamo di televisione il reality dall'altra parte se parliamo di cinema il tratto da una storia vera cioè il mettere in scena la realtà delle persone come se fosse come se avesse un copione drammatico ma anche il riprendere dei fatti e raccontarli come se fossero fiction da questo punto di vista un caso di tratto da una storia vera legato proprio a un personaggio che ha fatto un salto di ruolo è quello che comunque al di là di tutto quello che possiamo dire è uno dei grandi romanzi italiani della fine del novecento parlo di romanzo criminale romanzo criminale poi diventato film poi diventato serie televisiva scritto da un giudice che aveva le carte della storia della banda della Magliana che sulla base di quella carta di quelle carte crea un romanzo tratto da una storia vera chi ha letto romanzo criminale il romanzo si rende conto che i passaggi tra la documentazione la supposizione l'invenzione sono continui la mia personale convinzione è che in tutti i campi di sapere invenzione e scoperta siano complementari cioè bisogna sforzarsi con l'immaginazione per poter scoprire le cose il che non significa che poi non si debba verificare prima di dire però che comunque l'immaginazione sia uno strumento essenziale di conoscenza e viceversa che la conoscenza sia uno strumento essenziale dell'immaginazione diciamo però che nell'epoca attuale c'è una convergenza tra questi due elementi dall'altra parte c'è una forte tendenza della narrativa ad andare verso due o tre direzioni che sono complementari a questo una è la direzione di fare del detective una figura sempre più varia il detective può essere l'investigatore privato ma lo è sempre meno può essere più di una volta il poliziotto professionista può essere spesso un poliziotto professionista che poi beve si droga fa di tutti i colori ma comunque un poliziotto professionista può essere anche il medico legale c'è una grande tendenza del poliziesco contemporaneo a dare un ruolo importante a quelli che lavorano sui cadaveri come quelli che scopriranno il delitto dai romanzi di Patricia Cornwell fino a tutte le serie Greys Anatomy eccetera eccetera Bones e può essere naturalmente anche perché anche questa è una tendenza significativa può essere Aristotele può essere cioè prendere personaggi storici i più strani e farne dei detective nel loro contesto è una strana tendenza che però si lega a quello che lei dice nel senso che sostanzialmente c'è il poliziesco che si sta spalmando un po' su tutta la nostra cultura per cui per cui che ci siano poliziotti giudici eccetera che scrivono polizieschi è normale che ci siano quasi tutti i miei colleghi universitari che prima o poi nella vita scrivono almeno un poliziesco potrebbe sembrare più anormale ma sta succedendo anche questo il bisogno di scrivere polizieschi è molto è molto diffuso la spettacolarizzazione dei processi allora la spettacolarizzazione il processo è uno spettacolo il processo è per definizione uno spettacolo è una messa in scena pubblica di tipo rituale quindi dire che il processo non deve essere spettacolare è una contraddizione in termini però è vero che con i media contemporanei ci sono stati diversi momenti in cui i processi sono diventati spettacolo in un modo che ha travalicato questo spettacolo di base che dovrebbe essere il processo però andiamo in tempi anche molto antichi faccio un esempio banale per l'Italia soprattutto per le persone più anziane l'Italia negli anni 50 è stata travolta dallo scandalo Fenaroli Ghiani negli anni 50 l'omicidio della signora Maria Martirano a Roma da parte di uno sconosciuto per il omicidio per il quale la pubblica accusa sostenuta dalla polizia accusava un elettrotecnico milanese di essere volato a Roma gli aerei allora si usavano pochissimo per andare a uccidere la signora Martirano per ordine del marito il geometra Fenaroli tutta questa storia ha tenuto l'Italia appiccicata ai giornali e anche ai primi televisori eccetera per anni c'era una differenza che la televisione e la radio in quell'epoca un po' codina molto democristiana eccetera parlavano molto meno di delitti di quanto era più la cronaca giornalistica però se lei andava nei bar spessissimo la gente stava lì a discutere che il mondo si divideva tra innocentisti e colpevolisti mia madre mi ricordo era un'innocentista fanatica e litigava con tutti i colpevolisti quindi se vogliamo andare ancora più indietro del tempo il processo Dreyfus che era un processo penale che divise l'opinione pubblica francese negli anni 80 e dell'ottocento è un pezzo fondamentale della storia della storia moderna perché poi tutto il modello antisemitismo è legato al processo Dreyfus eccetera quindi il processo anche spettacolare che cosa è successo nella televisione del reality perché questo è il passaggio fondamentale che cosa è successo nella televisione del reality sono arrivati i programmi come un giorno in pretura chi l'ha visto eccetera eccetera un giorno in pretura nasce originariamente con l'idea di rendere più pubblico il processo un giorno in pretura nasce da una trasmissione da un documentario che si chiamava processo per stupro e che fu fatto da un gruppo di femministe per dimostrare come i processi non rendessero giustizia alle donne che erano state violentate quindi nasce con un intento decisamente progressive innovativo eccetera eccetera ha un successo del tutto imprevisto quando Rai 3 lo manda in onda ci sono polemiche terribili interne alla Rai poi però ha un successo imprevisto e a quel punto si decide di fare il processo come spettacolo fisso e diventa un processo in pretura con la trasformazione del processo in uno dei diversi reality un altro è chi l'ha visto con la gente che telefona per dire chi è stato ed ho visto tizio eccetera eccetera in questo contesto in questo contesto abbiamo poi il passaggio ulteriore che è la televisione del talk show perché un processo è una cosa un talk show è un'altra qual è la differenza tra un processo e un talk show un processo è una realtà dove le parti sono molto precise ciascuno ha un ruolo preciso il talk show è basato sulla regola io dico quello che cavolo mi pare do sulla voce all'altro sì ma poi soprattutto sì do sulla voce all'altro eccetera ma anche se sono civile quello che io dico vale quanto quello che dici tu tu puoi saperne cento volte più di me ma è che è un principio che è diventato un principio abbastanza tipico della nostra cultura però non stiamo a dire che è nato con la rete perché è cominciato ben prima della rete questo principio in realtà è cominciato in parte con la televisione stessa quello tutte le opinioni valgono la stessa cosa in questo contesto qua trasformare un processo da una parte in un reality dall'altra parte in un talk show è abbastanza facile costa relativamente poco voi pensate quanta audience si può fare con una serie televisiva quanto costa e quanta audience si può fare chiamando la signora Franzoni mettendo un modellino al centro e cominciando a far litigare la gente intorno a tutto questo si fa più audience costa molto di meno si appaga la vanità di una serie di persone perché poi lei dice uno Taormina diventa diventa l'avvocato di ma Taormina alza le sue tariffe non solo con quella signora lì alza le sue tariffe con tutto l'intero pianeta quindi voglio dire è un gioco allora che cosa c'è lì da discutere c'è da discutere l'etica della televisione pubblica perché qui stiamo parlando di televisione di Stato e la televisione di Stato dovrebbe avere delle regole rigorose su come si trattano i processi d'altra parte in un paese nel quale non voglio fare l'innocentista anche se lo sono nel quale un signore è stato è stato condannato per un mezzo DNA sto parlando di Bossetti e del caso di Yara Gambirasio dopo che il ministro degli interni aveva fatto una conferenza stampa dimenticandosi totalmente dell'esistenza della presunzione di innocenza della Costituzione per dire noi abbiamo trovato il colpevole dell'omicidio di Yara Gambirasio e lo è certamente perché c'è il DNA e così via lei capisce vogliamo parlare di spettacolarizzazione dei processi un ministro degli interni così andrebbe ecco abbiamo una domanda il microfono buongiorno più che domande sono riflessioni e integrazioni in parte mi avete già un po' anticipato io volevo allora volevo dire che in realtà Cogne secondo me è un punto di partenza perché dopo Cogne si è andati oltre perché per esempio ieri sera c'è stata la telefonata a un ergastolano in una trasmissione questa è l'ultima sì non in diretta era stata però è stata fatta la telefonata a un ergastolano come si sente come sta non sto a specificare se volete la trovate in giro secondo me nella questione della confusione avete così l'ambito ma i social in realtà stanno facendo un po' la sto studiando io sono un avvocato io ho seguito anche il processo Bossetti sono andata anche a delle udienze quindi lì poi ci sarebbe un discorso da fare perché c'è tutto un discorso a prescindere l'innocenza colpevolezza ricollegandomi a questo volevo dire i social hanno creato anche un altro tipo di confusione in cui appunto con l'aspettacolarizzazione e i programmi che si basano sui social creano il fatto di dire io che ho letto quattro principi quattro nozioni in croce su Google mi metto sullo stesso piano di te che sei un avvocato quindi se io ti dico no guarda secondo me stai dicendo una sciocchezza giuridica e vi assicuro che se ne leggono tante la gente si offende se provi a spiegarglielo e dire no guarda stai dicendo delle cose che non stai oh ma tu sei superbo anche questa è una confusione e vi assicuro una volta si faceva al bar di sparare le cavolate dice innocente perché sì ma se tu mi dici che è innocente perché stai dicendo delle cose per esempio la gente magari giustamente che non è tenuta pensa che sia tutto tipo il processo americano no il processo italiano è tutto un'altra cosa e se uno va a seguirsi un qualsiasi processo normale in un'aula vedrà che non è così invece magari la maggior parte delle persone mi appongo a vostro onore però c'è anche questa confusione sta diventando molto molto pericoloso perché molta gente mi ha detto taci tu no io sto cercando di spiegartelo non è così perché il processo per esempio la grande bufala il rito abbreviato cui vale una confessione e tu stai a spiegargli che non è così ecco queste sono le mie riflessioni grazie prego vogliamo vogliamo fare due o tre lei ha detto uccide i figli uccide la moglie uccide cioè in famiglia si uccide ecco come mai non ce l'ha spiegato non ce l'ha detto cortesemente poi ha parlato anche della spettacolarizzazione dei processi e ha detto che i media sono gli artefici con foto filmati anzi ha parlato anche di Bruno Vespa che vabbè io sto dicendo un esempio indubbiamente ha detto che Bruno Vespa affronta questi queste occasioni per pubblicizzare se stesso e chi fa parte di quella chiamiamola tra virgolette combriccola ecco mi fa mi risponde a queste mie domande la ringrazio c'è qualcun altro che vuole intervenire allora io non allora per quanto riguarda per quanto riguarda la questione della del come vengono raccontati i processi dell'emergere di un'opinione di un'opinione che pensa di essere pari a tutte le altre è un problema molto grosso di cui social io credo sono un veicolo ma non possono essere considerati non possono essere considerati l'iniziatore e neanche la causa principale vi faccio un esempio molto banale quando nel 2000 quindi nel 2000 non esistevano i social esisteva internet da pochi anni il web scusatemi da pochi anni ma non esistevano i social nel 2000 c'è la campagna elettorale americana il candidato presidente George W. Bush dice parlando di politica internazionale di cui sapeva molto poco a un certo punto usa la parola grecians invece di greeks cioè definisce i greci greciani che devo dire francamente per un futuro presidente degli Stati Uniti sarebbe stata considerata un tempo abbastanza pesante fanno un sondaggio su come la gente prende questo presidente che non sa neanche come si chiamano gli abitanti della Grecia e la maggioranza del pubblico dichiara che è più simpatico adesso cioè noi viviamo in un'epoca di una politica prima di tutto ma non è solo la politica in cui valori come la sincerità almeno io le cose le dico non mi nascondo dietro l'ipocrisia la simpatia la il saper il sapere esprimere un'opinione condivisa stanno diventando dei valori molto forti ripeto non a causa di facebook o altro io penso che siano i veicoli questi canali è una tendenza più generale una tendenza più generale che si presenta sotto le spoglie della democrazia la mia opinione vale la tua il fatto che tu sia più competente di me non conta assolutamente nulla bisogna anche dire che dall'altra parte spesso c'è e continua a esserci da parte per esempio degli scienziati ma anche da parte di professionisti eccetera un attesamento eccessivamente paternalistico condiscendente eccetera che favorisce questo tipo di reazione e lo si vede nella polemica sui vaccini cioè da una parte abbiamo i novax fideistici che dicono i vaccini fanno tutti male eccetera dall'altra parte abbiamo spesso gli scienziati chiamati dalla televisione ovunque che dicono no no i vaccini fanno tutti bene bisogna prenderli assolutamente tutti rifiutando qualunque tipo di discussione e dimenticando che la scienza il sapere tanto più in un campo come quello del crimine vivono di dubbio vivono di incertezze vivono del fatto che nessuno ha la verità in tasca che ci siano delle competenze superiori che ci siano delle verità anche tecniche nel fatto che il processo è fatto in un certo modo eccetera eccetera è verissimo probabilmente bisogna accettare che viviamo una società nella quale comunque bisogna accettare come interlocutori tutti costoro salvo poi favorire la come dire l'apporto della competenza superiore io la metterei in questi termini è una società dove tutti possono dialogare dove bisogna favorire l'apporto della competenza superiore io lo vedo nelle istituzioni educative i miei colleghi che sono troppo ex catedra e non tengono conto che i ragazzi hanno wikipedia eccetera molto spesso non riescono a dialogare quelli che tengono conto del fatto che i ragazzi poi magari mentre loro parlano vanno su google a vedere quello che loro stanno dicendo eccetera eccetera ma dialogano con tutto questo e fanno capire fanno accettare la loro superiore competenza a mio vedere sono quelli che ottengono i risultati pedagogici migliori però sicuramente è una fase molto difficile da questo punto di vista per la conoscenza rigorosa per quanto riguarda io non ho la spiegazione su perché le persone uccidono i figli perché non è il mio tema il mio tema è perché fenomeni come una madre che uccide un figlio attira l'attenzione pubblica questo è il mio tema perché attira l'attenzione pubblica dirò di più io sono molto preoccupato di una domanda del tipo perché la madre uccide un figlio perché tra i tanti aspetti della spettacolarizzazione del crimine che noi abbiamo c'è anche la psicoanalisi in diretta di persone di cui non sappiamo niente tra gli esperti che vengono chiamati spesso ci sono gli psicologi che ci spiegano le motivazioni di un assassino senza aver mai visto questa persona senza aver mai visto il contesto e così via cosa che è ancora più inaccettabile dell'avvocato Tormina che si fa pubblicità attraverso la trasmissione perché lo psicologo le motivazioni vere di una madre che uccide un figlio per capirle ci deve mettere probabilmente mesi di lavoro sulla madre sulla sua storia non sono io che sono in grado io però sono colpito dal fatto che tra i temi che attirano più l'attenzione anche morbosamente c'è il fatto che la madre uccide il figlio perché l'abbia fatto non sono io a volerlo spiegare e a poterlo spiegare sulla questione della spettacolarizzazione dei processi indubbiamente intanto prima di tutto ripeto è un fenomeno antico ci sono vari modi di spettacolarizzare i processi c'è un film che io considero magnifico che è Sono innocente You Only Live Once di Fritz Lang un film del 37 girato negli Stati Uniti dove c'è Henry Fonda protagonista che è accusato ingiustamente di un delitto per sapere lui è la corte è riunita Fritz Lang ha questa trovata registrica geniale invece di farci la solita scena la corte la giuria ha raggiunto un verdetto eccetera eccetera ci fa vedere la redazione di un giornale dove ci sono tre fotografie di Henry Fonda uno con la faccia tutta contenta una con la faccia disperata e una con la faccia incerta e noi capiamo subito la faccia contenta vuol dire che è stato assolto la faccia disperata vuol dire che è stato condannato la faccia incerta è la hang jury cioè la giuria non ha raggiunto un verdetto il direttore del giornale riceve una telefonata noi li sentiamo dire solo sì e poi con la penna punta sulla fotografia di Henry Fonda con la faccia disperata quindi noi sappiamo che è stato condannato da una fotografia che viene selezionata per l'edizione del giorno dopo allora quindi questo tipo di uso della foto eccetera eccetera ripeto è molto antico ed è presente in tutte le forme di comunicazione più si allarga la varietà delle forme di comunicazione più si allargano questi fenomeni come dicevo quello che dicevo prima non era un'incriminazione di Bruno Vespa che Bruno Vespa mi stia è fieramente antipatico si sarà capito me ne assumo personalmente la responsabilità ma non è questo il punto e Bruno Vespa io anzi gli ho fatto un omaggio dal punto di vista professionale ho detto raggiunge un'audience altissima con mezzi limitatissimi è un omaggio dal punto di vista professionale che non è un omaggio all'etica della televisione di Stato ma questo è un altro discorso lui fa il suo mestiere raggiungere un audience il più alta possibile e lo fa in questo modo che io considero eticamente dubbio ma sicuramente fa il suo mestiere però ci sono altre forme di spettacolarizzazione del processo che per certi versi sono anche peggiori allora naturalmente naturalmente per esempio tutti vediamo scusatemi del processo ci sono cose anche peggiori anche prima tutti ci ricordiamo di aver visto qualche volta il telecronista che mette il microfono in bocca alla madre che ha appena saputo della morte del figlio e le dice come si sente in questo momento è assolutamente un classico ed è uno degli orrori assoluti della televisione contemporanea però al di là di quello uno degli orrori invece della spettacolarizzazione del processo è il ruolo che viene assegnato ai parenti della vittima i parenti della vittima spesso sono trattati come i veri giudici cioè il che è assolutamente incivile perché naturalmente naturalmente sovrappone la vendetta alla giustizia cioè i genitori della vittima non sono dei buoni giudici per definizione perché sono stati feriti violentemente nei loro affetti e quindi magari pur di cercare un colpevole si attaccano alla verità giudiziaria e quindi tipicamente se poi viene assolto l'imputato se tu vai a chiedere ai genitori della vittima cosa ti dicono ti dicono è un'ingiustizia terrificante e viceversa un caso pazzesco da questo punto di vista è stato l'omicidio di Marta Russo alla Sapienza di Roma in cui il padre di Marta Russo veniva regolarmente interrogato a ogni passo del processo per fargli dire che i due imputati Scattone e Ferraro erano sicuramente colpevoli erano certamente colpevoli e il loro parere veniva trattato come il padre della vittima veniva trattato come un parere rilevante a me personalmente sembra come quella normativa di alcuni stati americani per cui i genitori della vittima vengono invitati ad assistere all'esecuzione dell'imputato cioè è una forma di spettacolarizzazione che dà uno spazio a qualcosa che non dovrebbe assolutamente averlo la soddisfazione del bisogno di giustizia delle famiglie comprensibilissima umanamente non dovrebbe essere parte del processo penale ci sono altre domande mi sembra che possiamo possiamo chiudere qui grazie al professore Artoneva grazie a tutti voi moltissime grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti